Un altro progetto di grande rilevanza, ISO 45001, richiede alle organizzazioni un impegno di grande rilevanza. In che modo voi intervenite in questa domanda e proponete una soluzione? Allora, diciamo ISO 45001 è il sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e ci siamo impegnati già da anni perché comunque un progetto, la salute e la sicurezza è qualcosa che si deve progettare sperimentandola sul campo, andando a vedere in azienda cosa va, cosa non va, cosa va corretto. L'obiettivo che ci siamo dati quest'anno è di raggiungere uno standard internazionale che sia un momento di sicurezza per tutti coloro che nel nostro ambito, noi lavoriamo nell'ambito dell'organizzazione dell'eventistica, quindi in particolare eventi motoristici, quindi il campionato mondiale di superbike, dove interagiscono i nostri e il nostro staff e interagiamo con il pubblico. Quindi il tema sicurezza per noi è determinante per mettere in sicurezza i nostri lavoratori, ma a mettere in sicurezza anche tutti coloro che poi accedono alle aree dove si trovano le nostre attività, dove noi installiamo le nostre installazioni, ovviamente di entertainment e di divertimento. Questo per noi è importante, rilevante internamente, rilevante per il nostro pubblico, rilevante perché sprona i stessi circuiti, gli stessi organizzatori, tutti coloro che accolgono l'evento, a elevare i loro standard di sicurezza al nostro livello, diciamo che nonché tutti quanti i fornitori, cioè vogliamo essere un po' anche... Siete pedagogici, educativi? Beh, pedagogici, educativi. E anche qui qual è il primo feedback, il primo ritorno che avete avuto quando vi siete messi in questa impresa? Il primo è stato l'amministratore fissato, è un obbligo, lavoravamo bene, eravamo più veloci, via di sento. Poi c'è stata la fase in cui si è cominciato a vedere che applicare queste norme non era poi così gravoso e il risultato era comunque l'ottenimento di lavorare con degli strumenti e dei metodi che davano la percezione di sicurezza. Il tutto con questa certificazione, quindi grazie anche a volersi adeguare agli standard internazionali e all'emissione, diciamo, dell'ONU in termini di... poi andremo avanti con la certificazione ambientale, vuol dire cambiare il mindset delle persone, vuol dire cambiare proprio la maniera di ragionare e di lavorare. Questo è il grande, diciamo, già successo che abbiamo perché il riscontro va in questo. Non si mette più in discussione cosa devo fare, ma si propone come migliorare.